Alla fine una prima bozza del disegno di legge di bilancio arriva. Tra le priorità del governo c'è il mondo del lavoro per il quale è previsto un taglio del cuneo fiscale, ovvero la differenza tra quanto un dipendente costa ad un'azienda e quanto lo stesso dipendente in cassa, netto in busta paga. Un taglio che sarà su più livelli. Facendo questo l'esecutivo spera di rafforzare l'occupazione e di incentivare nuove assunzioni, assunzioni che sono legate alle pensioni e alla fatidica quota 100. Confermato infatti lo stanziamento di 6,7 miliardi nel 2019 e 7 miliardi nel 2020 per garantire i nuovi pensionamenti ai quali andranno affiancate le nuove assunzioni per ringiovanire il mondo del lavoro. Altro tema che in queste settimane alimenta discussioni e polemiche è quello del reddito di cittadinanza. La bozza prevede un fondo da 9 miliardi l'anno a partire dal 2019, ma per avere maggiori dettagli su dove andranno presi questi soldi e come funzionerà questa misura che dovrebbe superare l'attuale reddito di inclusione bisogna attendere provvedimenti successivi. C'è poi la cosiddetta flat tax, confermata per il 2019 la misura al 15% per professionisti e piccole imprese con ricavi sotto i 65 mila euro. Sembra invece che dal 2020 entrerà in vigore anche l'imposta sostitutiva al 20% per quanti guadagnano dai 65 mila ai 100 mila euro l'anno. 70 sono poi i milioni destinati al mondo universitario in due stanziamenti distinti, uno nel 2019, 20 milioni, e 50 milioni nel 2020 per assumere mille ricercatori. Per le coperture di queste misure spuntano nuove imposte sui giochi e sulle sigarette, ma non solo. Verranno anche sfruttati i maggiori incassi dell'asta per le frequenze 5G.